Con Andre Loos per il team Weissin andiamo a cercare di capire anche dai piloti che arrivano dalla teutonica Germania come sono altre cose. Andre, qual'è la sensazione dopo tre ore? È un buon giorno, ma ora è un po' più giudicato. Siete freddo per la notte o prevedete il regno durante la notte? Allora, un pochino di pioggia non chiederebbe farlo. Perchè loro sono abituati. Grazie Andre and of course a good chance for the race. See you tomorrow for the second interview and we hope for a little bit change. Grazie mille, ciao!